Avrà una coda alla procura della Corte dei Conti la questione inerente alla nomina del comandante della Polizia Municipale dell'Aquila. Il 31 luglio scorso la quinta sezione del Consiglio di Stato ha rigettato il secondo ricorso che sul punto dopo il passaggio al Tar era stato proposto dal Comune dell'Aquila. I giudici del secondo grado amministrativo nel ribadire ancora una volta come il comandante della Polizia Municipale debba essere necessariamente individuato all'interno del corpo, cosa che il Comune dell'Aquila non ha fatto, hanno anche condannato l'ente civico al pagamento delle spese di lite, quantificate in 5.000 euro. E su questo punto specifico si è focalizzata l'attenzione del consigliere comunale aquilano del Partito Democratico Stefano Palumbo, presidente della quinta commissione, quella di garanzia e controllo. Per Palumbo in pratica quei 5.000 euro di spese di lite che allo stato dei fatti dovrebbero essere pagati con le tasse dei cittadini aquilani potrebbero configurarsi come un vero e proprio danno erariale che, spiega il consigliere comunale del Partito Democratico, se riconosciuto dovrebbe essere imputabile a chi lo ha causato, ossia la chiosa di Stefano Palumbo, sindaco ed assessori che finora sulla vicenda del comandante della Polizia Municipale hanno disatteso tutte le sentenze sia del Tar che del Consiglio di Stato.